allora come saprai tevez ci ha salutato e tornato che sta mangiando a me non ha salutato a te si è scordato ha fatto un saluto a calciopazzo in generale ci ha beccato un po a tutti insomma proprio mentre stava all'aeroporto ci ha mandato questo saluto e quindi la juve viene a perdere un pezzo importante lo possiamo dire no? si ma cercante che in questi due anni ha significato due o tre anni quant'è che stava? due ha significato molto insomma per i successi di accolei tra l'altro viene anche a perdere un numero 10 che adesso bisogna rimpiazzare adeguatamente anche se comunque ne era proprio un 10 vabbè però comunque è un rappresentante della maglia della maglia importante si bisogna vedere chi viene ok allora intanto però perché secondo me se non viene nessun 10 io penso che solo schiaffano a marchisi non mi fa male capito? poco per riconoscimento capito? vabbè nella trattativa che ha portato tevez al bocca è arrivato Guido Badalà e chi? e il nuovo Kun Aguero io ho visto dettagliatamente tutte le cose questo è uno che c'è la cazzimma che dribbla che tira e fa un peperino cacacazzi cacazzo e quindi può crescere insomma alle spalle di tutti questi qui che hanno preso tu ti stai fai cazzito io ti sento tu non sei più molto presente io ti devo cacciare che ho detto che tu prima di chiamarmi mi devi avvisare capito ma la notizia è uscita è fresca quindi tu mi chiamavi ci senti sei pronto per fare questa cosa e tu mi dicevi no e io ti dicevo no fra cinque minuti finimi cazzimia e se tu mi chiami durante cazzimia non so che siamo siamo in diretta ma stiamo in diretta poi sospende un attimo i cazzimia finiamo ma no funziona così non funziona così la precedenza ce l'ha di cazzimia scusami tanto non vogliamo crescere come canale vogliamo crescere ma basta che aspetti due minuti io finisco bene cazzimia faccio bene da te e fanno tutto bene va bene se non faccio nell'uno nell'altro questa provocazione chiudiamo questa provocazione quale provocazione zazza può prendere il 10 no no secondo voi amici zazza può prendere il 10 ma vi lascio questa cosa lasciamoci così senza rancore va bene arrivederci